Ingegnere Galeota, interventi di ricostruzione nel post-sisma all'Aquila, in particolare sugli interventi di pregio storico-monumentale. Qual è stata la filosofia che è stata alla base della strategia con cui poi si è andati concretamente a operare sui cantieri? Certo, è stata quella di rispettare un pochettino la sicurezza innanzitutto degli occupanti, ma anche la conservazione del bene storico e monumentale. Quindi abbiamo cercato di trovare un giusto equilibrio tra sicurezza e conservazione. E questo è un criterio generale che abbiamo utilizzato in tutti gli interventi ai quali abbiamo collaborato. Per esempio mi riferisco al Palazzo Margherita, la ex-sede del Comune dell'Aquila, la Scuola di Amicis, Palazzo Camponeschi. Devo dire che un intervento che ci ha coinvolto moltissimo è stato quello relativo alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Su Collemaggio come si è andati ad intervenire? Quali sono state le linee guida che poi hanno portato a un restauro, se possibile, anche migliorativo, visto che sono stati riscoperti anche i famosi giochi di luce? Certamente. Per quanto riguarda la parte strutturale, il nostro approccio è stato quello di effettuare un miglioramento sismico. Questo non significa un adeguamento della struttura. Significa però scegliere un livello di sicurezza più basso, però accettabile. Questo proprio per venire incontro a quella doppia esigenza di garantire la sicurezza dell'edificio, ma anche la conservazione, quindi senza intervenire in maniera eccessivamente invasiva negli interventi strutturali. Grazie. Grazie.